Ancora grazie alla Presidenza cieca per avere convintamente proseguito l'impegno avviato dalla Presidenza francese per la rapida definizione di un testo di compromesso su un dossier che è di centrale rilevanza nel nostro Next Generation EU e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano. Qui l'Italia è pronta a offrire il proprio sostegno all'orientamento generale e al testo di compromesso che è stato raggiunto. Profaccio in particolare il riferimento alle sanzioni previste per le persone giuridiche. Noi riteniamo che debba essere adottato in via prioritaria il criterio della percentuale del fatturato della persona giuridica sia al fine di assicurare l'efficacia deterrente delle sanzioni sia per garantire il rispetto del canone di proporzionalità. Aggiungo che nel sistema penale italiano è già previsto per alcuni reati che la pena debba essere calibrata in base anche alla disponibilità, la pena pecuniaria, in base alla disponibilità economica del condannato proprio per rendere più afflittiva o meno afflittiva la sanzione medesima. Per il resto abbiamo accolto con favore l'introduzione di fatti specie che rispondono adeguatamente e con una definizione dei tipi legali più determinata, nuovi reati come per esempio la deforestazione e l'esaurimento delle risorse idriche. Grazie.